Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Cari amici di Fiasp Podismo Informato, buonasera a tutti e bentrovati qui dagli studi Caffè TV24, da Andrea Gusella e alla regia Davide Maggiolo per la nostra striscia settimanale di Fiasp Podismo Informato. Questa settimana abbiamo gli eventi che vanno dal 5 ottobre al 12 ottobre, dei quali parleremo. In particolare parleremo di una manifestazione che è la manifestazione più anziana, la veterana del calendario podistico padovano, che è la manifestazione Marcia sul Brenta di Carmignano di Brenta, che giunge alla sua 47esima edizione. Un traguardo decisamente importante, significativo, una manifestazione storica che ha alle spalle l'organizzazione dell'Avis Aido Carmignano e abbiamo in linea telefonica con noi l'amico Simone Lazzari, con il quale parliamo della manifestazione e di cosa ci saranno come novità domani per tutti noi che parteciperemo a Carmignano. Un saluto intanto a te Simone, buonasera. Un saluto a te Andrea, ti devo correggere subito, hai sbagliato il cognome, Simone Zanoni. Sarri, non importa. Dunque, hai detto bene, la nostra è una manifestazione abbastanza adattata, solo nel numerino perché è un 47 quest'anno, ma c'è stato un rinnovamento da parte del comitato di gestione della marcia. Il vecchio, il patrono storico Luigi Antonello ha un po' passato la mano e io e un altro gruppo di ragazzi che frequentano tutte le domeniche le marce abbiamo deciso di non farla morire perché per noi è un patrimonio storico sia per il Carmignano ma anche per una bella tradizione che si è formata di marcia. Abbiamo però pensato di dare un po' di rinnovamento alla marcia, soprattutto dal punto di vista dei percorsi. Abbiamo pensato quindi a un percorso per disabili sfruttando la pista ciclabile che da Carmignano va a Camazzole che è stata inaugurata il 28 di settembre, quindi una pista ciclabile nuova nuova che ci ha permesso di creare un percorso perfettamente privo di barriere architettoniche. Abbiamo poi inserito un 8 chilometri che si snoda prevalentemente per le campagne del nostro paese e con i 12 e i 20 chilometri entriamo in quello che è il territorio storico della marcia sul Brenta che è la riva del fiume Brenta. Quindi abbiamo mantenuto questa peculiarità passando per il bacino di Giareca e per dei scorsi paesagistici che sono veramente caratteristici del nostro paese. Guarda, è sicuramente una manifestazione che è al di là della storia che ha in sé e quindi sicuramente Luigi è stato un abile organizzatore e ha portato avanti la manifestazione per ben 46 edizioni e sicuramente per tutti coloro che l'hanno frequentata sono ben stampate le immagini della bellezza del territorio e i passaggi che il Brenta offre nel tratto che la marcia si preoccupa di attraversare. Poi ci sono bellissimi passaggi all'interno di quelle che sono delle importanti aziende agricole del territorio dove c'è ancora una bella visione della realtà agricola padovana e credo che si possa definire sicuramente una delle manifestazioni in pianura più belle che il panorama podistico padovano offre, ha sempre offerto in questi anni. Non posso non essere d'accordo con te, quest'anno inoltre abbiamo inserito anche nei percorsi della marcia anche dei punti di interesse storico, è un'iniziativa che è nata e portata avanti con i patrocini del comune di Carmignano. Il percorso della marcia si snoda anche per delle ville storiche presenti nel nostro territorio, qual è la villa comunale, la chiesetta di Spessa, la villa di Spessa, c'è la barchessa Valmarana in cui ha dormito addirittura Napoleone e un'altra località storica che è la torre Breda di Camazzole che noi cerchiamo di valorizzare, abbiamo cercato di valorizzare con il percorso della marcia. Davanti a queste ville abbiamo messo dei cartelli con dei cenni storici, qui la persona che li vede può leggere e avere anche un'idea della storia di questi siti storici. Beh, questa sicuramente è una pregevole iniziativa e sicuramente va a favorire quel grosso contributo che può dare anche da un punto di vista di recettività, di turismo sportivo di cui noi spesso parliamo. Ci rivolgiamo in particolare a una gestione locale, pensiamo sempre di fare delle manifestazioni il più possibile a chilometro zero per chi partecipa, però non possiamo non dimenticare che abbiamo un territorio talmente bello e talmente ospitale, ricco di caratteristiche che deve anche rivolgersi sicuramente verso l'esterno. Quindi è giusto ed è importante valorizzarlo, è importante enfatizzare quelli che sono quei pregi storici che il territorio offre. Quindi bravi, mi fa piacere, credo faccia piacere a tutti. Certamente. Ecco, rimane dopo la nostra caratteristica del ristoro con la fortaglia e il cuisin, che è stata mantenuta viva, quindi faremo nel ristoro che è presente nell'albero del bacino Brenta, del bacino del Brenta. C'è questo punto di ristoro in cui viene fatta la frittata e i partecipanti trovano anche la possibilità di regustare il museo. Magari è un po' presto, però come periodo dell'anno. Però abbiamo anche questa tradizione, quindi l'abbiamo mantenuta. Bene. Allora, ricordiamo un attimino quelli che sono gli aspetti di natura logistica. Il ritrovo è a partire dalle ore 7, se non sbaglio. Sì, ritrovo 7, partenza 7.30, del centro parrocchiale che è dietro la chiesa di Carnignano di Brenta. Perfetto. I percorsi sono, ricordiamolo, di... Dunque 5, 8, 12 e 20 chilometri, praticamente, prevalentemente pianeggianti, con, possiamo dire, un 60% di sterrato, 40% di asfalto. Bene. Allora, Simone, buon lavoro per domani e grazie per il contributo. Chiaramente noi ci vediamo domani a Carnignano di Brenta. Bene. Grazie mille. Grazie e arrivederci a te e a tutti gli amici dell'Avis Carnignano di Brenta. Grazie mille. Bene, cari amici, allora proseguiamo con la nostra puntata. Abbiamo quindi parlato dell'evento di Carnignano di Brenta, che è sicuramente la principale manifestazione che abbiamo in calendario per quanto riguarda la giornata di domani. Abbiamo anche un secondo appuntamento che è a Taggì di sotto, in Villa Franca Padovana, la settima manifestazione, l'Audato Si, di 5, 8, 14 e 21 chilometri. Una manifestazione che è inserita all'interno della storica sagra della Madonna. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30 presso il patronato di San Nicola e la partenza è dalle ore 8 alle ore 9. Il percorso si snoda lungo il fiume Brantella e l'interno dell'area di Taggì e Villa Franca e va a toccare, nei percorsi più lunghi, il tavello. Andiamo avanti e parliamo di attività della scorsa settimana. Giusto facciamo un flashback e vediamo come sono andate le manifestazioni della scorsa settimana. Allora, Marcia di Vartandi e Fontanilla, 36esima edizione. Circa 2.000 presenze hanno dato vita, hanno onorato questa manifestazione che veramente ha sicuramente convinto tutti per quanto riguarda la qualità dei percorsi. Nella stessa mattina ad este c'era la camminata in rosa che ha visto la presenza di circa 500 partecipanti, manifestazione che si inserisce nel contesto del mese della prevenzione del tumore al seno, il mese di ottobre, è stata anticipata la domenica scorsa. Altra manifestazione rivolta alle donne, in questo caso manifestazione contro la violenza sulle donne, la Running Guards, di domenica pomeriggio agli impianti sportivi del CUS che ha visto la presenza di circa 1.000 partecipanti. Per quanto riguarda le attività in programma domani, andiamo a vedere cosa ci viene proposto fuori provincia e andiamo in quella di Verona, a Casa Leone, camminata nella Val del Casa Leone, di 5, 10 e 20 km, le partenze dalle ore 8.30 alle ore 9. A Illasi, invece, una manifestazione è riservata unicamente al Nordic Walking, si chiama Nordicando e propone due percorsi di 6 e 10 km, la partenza è dalle ore 8 alle ore 9. In provincia di Vicenza abbiamo due manifestazioni, a Mussolente, passeggiando tra Castagno e Livi, di 4, 8, 12 e 20 km, la partenza è dalle ore 7.30 alle ore 9.30. A Zanè, invece, la marcia verdiana di 7, 13 e 20 km, la partenza è dalle ore 8 alle ore 10. Un rapido riepilogo di quelli che sono gli allenamenti collettivi organizzati del Comitato di Padova, il martedì abbiamo il training a Piove di Sacco, ritrovo in prossimità del Duomo alle ore 19.45, distanza di circa 8-10 km per i runner, 5 km circa per i camminatori. A Vigonza, Vigoran, ritrovo in Via Kennedy, palestra a Duomo Milani, alle 19.40, anche in questo caso, percorsi di circa 10 km per i runner e di 5 per i camminatori. A Campo San Piero, Villa Campello, Vado di Corsa, organizzazione del gruppo Mivao, ritrovo ore 20. Al mercoledì, invece, a Montagnana, gruppo podistico Corrile Mura, con Corrile Mura, ritrovo alle 20.20 in Piazza Trieste, con percorsi sempre di circa 9 km per i runner e 5 per i camminatori. Paleo Run, questa settimana partito alla grande, con circa 150 partecipanti alla prima uscita mercoledì sera a Rubano. Il ritrovo è fissato per le ore 20.15 al Parco degli Alpini, a Caselle di Selvazzano, percorsi di circa 9 km per i runner e 5 km per i camminatori. Corrile Mura, Corrile Mura, Corrile Camina nel Tuo Comune, a San Giorgio delle Pertiche, invece, organizzazione For Edil, ritrovo presso gli impianti sportivi di San Giorgio delle Pertiche, attorno alle ore 20. Il giovedì cammina per Arzer Grande, ad Arzer Grande ritrovo attorno alle ore 19.30 vicino al municipio. A Chioggia, invece, sotto Marina di Chioggia, Piazzale Europa, ore 19, ritrovo Corri Perciosa e Marina, 8-10 km per i runner e 5 km per i camminatori. E per finire, vado di corsa a Campo San Piero, il secondo appuntamento della settimana a Villa Campello, sempre alle ore 20, per l'uscita del giovedì sera. Io direi che per questo è tutto, per questa settimana vi abbiamo raccontato quello che abbiamo fatto e quello che faremo. L'appuntamento è per la settimana prossima con le notizie di Fias Podismo Informato. Un grazie a tutti, un arrivederci da Andrea Gusella. Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato.